Non sono mai stata in un ristorante al di fuori del campus. Claudine. Oh, giusto. Perfettamente arrastico. Sono qui, ragazze. Accomodatevi. Adoro il latte ghiacciato con la schiumiao. È bello vederti, Claudine. Spero che tu abbia preso la decisione giusta. Che cos'è? Un insetto nel mio latte? È inaccettabile. Mi scusi. Dica, c'è qualche problema. Sono costernato. Non so come sia successo. Posso offrirvi la cena? Devi credermi. Tu mi offrirai molto di più di una cena. Brutto, incapace. Va tutto bene. È tutto ok. Cose che capitano. Grazie, ora puoi andare. Allora, qual è la tua decisione, Claudine? Ecco, non è stato per niente facile, ma non posso rinunciare al diario di mia madre. Può darmi delle informazioni importanti, quindi le consegno il talismano. Ma questo è falso! Cosa? Non è vero! Tu pensavi di ingannare la massima esperta di talismani mostruosi del mondo! Questo sembra fatto da un cucciolo con i baffi ancora sporchi di latte! Ma sappi una cosa, ti ci vorrà molto più di quell'artiglio lunare per riavere tua madre! Anche quando avevamo tutti e sei talismani, il portale era così instabile che stava quasi per esplodere! Prima di intrappolarla laggiù! Questo diario era la tua unica speranza, ma ormai è troppo tardi! Buona fortuna! No! Sì, ora ho una comunità di mannari a cui badare, ma non finisce qui! Torelai, riporta Claudine a scuola! Non voglio che la preside Buonsangue mi colleghi ad uno studente scomparso di nuovo! Mamma! L'ho trovato davvero squisito!